Al mattino presto i maschi preistorici uscivano per andare a caccia e questa sera venivano richiamati dalle donne e sbattevano uno sull'altro i loro seni pelosi e mettendo suoni gutturali. Scusami se la girassi la scena di essere sbattevano uno sull'altro i tempi, bei tempi si, bei tempi. Non ho finito di leggere se qualcuno legge. Dei suoni toni truanti direi, toni truanti.